Sono molti i furti che si stanno verificando in questi giorni all'interno dei centri commerciali, potrebbe essere forse la conseguenza di una crisi economica che si è verificata a causa della pandemia? Andiamo a sentire le persone più da vicino, cosa ne pensano di quello che si sta verificando in quest'ultimo periodo, anche perché parrebbe che i furti siano proprio di beni di prima necessità, quindi beni alimentari. Ho avuto un po' la disoccupazione, per forza, giustificata mai, perché piuttosto si chiede se possono aiutarti, però purtroppo succedono queste cose, secondo me è per quel brutto momento che stiamo vivendo. C'è crisi, cioè crisi nel senso che la gente sta diventando più povera di prima. Sono cose che ci fanno pensare, gente forse che non ce la fa più, non lo so, però ci sono anche tanti aiuti in giro. Sicuramente sarà dovuto alla situazione che stiamo vivendo, però ci sono sempre anche altri tipi di furti, perché mio figlio lavora in un altro genere di supermercato non alimentare e ha subito dei furti, quindi non lo so se è dovuto alla situazione difficile che stiamo vivendo. Dipende da chi l'ha fatto, perché se l'ha fatto una persona che ne ha di bisogno è anche accettabile, voglio dire, si può comprendere, ma se l'ha fatto una persona che non ne ha di bisogno, che lo fa per rubare, è un'altra cosa. Bisogna vedere sempre le motivazioni, se lo fanno perché sono abitué, no, non mi sta bene, se ci sono altri motivi bisognerebbe provvedere.